Sarà una partita difficilissima, con profilo ambientale altamente a rischio per noi, bisogna andare a fare la guerra. Pescara è uno stadio che ha spettatori, al contrario di tanti in B, quindi c'è molto entusiasmo. Pescara ha vinto due partite e viene da buoni risultati, quindi dovremo essere pronti a fare la guerra. E poi se è possibile dimostrare che quando la palla è per terra noi sappiamo giocare a calcio. Grazie.